Questa è la scarpa che Maria Grazia ha pensato per il matrimonio di Chiara. Siamo partiti dalla Gia Dior ma l'abbiamo personalizzata. È un tacco 65, il materiale non è tessuto ma è un recamo fatto a macchina che simula un tessuto grogrin. Ogni lettera è un accessorio staccato quindi sono state realizzate tutte le lettere singolarmente che poi vengono montate sulla tomaia in aggiunteria. È un nostro metallo, la finizione è antique gold, oro vintage e gli strass che Maria Grazia ha chiesto di inserire sono black diamond. Dopo la cerimonia Maria Grazia ha pensato a una ballerina piatta e quindi abbiamo realizzato la Gia Dior anche in tacco basso. Per ballare? Per ballare! Per ballare! Per ballare! Per per ballare! Per ballare! Grazie a tutti